Dopo la secca sconfitta subita in trasferta con Talmassons, il Valle Soverato prepara una sfida altrettanto importante, quella di domenica prossima in casa contro la capolista Cutrofiano. Quindi con il vice coach Diego Boschini presentiamo questo match sicuramente difficile ma al contempo avvincente da giocare contro quella che è l'attuale capolista del Girone Est. L'analisi che hai fatto è perfetta, arriviamo da una brutta sconfitta fuori casa contro Talmasson dove è mancato proprio l'approccio alla gara. Quindi ci aspettiamo che le ragazze domenica prossima affrontino con un altro spirito, un altro anteggiamento, un'altra determinazione la gara contro una prima in classifica. Gli stimoli sono alti nel senso che giocare comunque una sfida con la prima in classifica è stimolante già di per sé. Quindi noi questa settimana stiamo lavorando con le ragazze per cercare di modificare un po' il loro atteggiamento e speriamo che esca una partita comunque molto combattuta, che le ragazze tirino fuori la grinta necessaria per affrontare comunque una squadra che sta molto bene in campo, che è in fiducia e soprattutto che come hai detto te è imbattuta, ha vinto tutte le partite fino ad oggi, nonostante magari qualche partita con qualche difficoltà, qualche 3-2, però è una squadra che comunque non molla un centimetro e noi dovremmo fare altrettanto. Ecco, allora presentiamolo l'avversario di turno, Cutrofiano, che tra l'altro è stato anche un vostro, tra virgolette, sparring partner nel corso della preparazione precampionato, quindi una squadra che conoscete abbastanza bene e che nel suo roster conta anche due elementi che sono stati qui proprio l'anno scorso, Quarchioni e Caneva. Sì, allora la squadra, come hai detto tu, questi due elementi, Quarchioni e Caneva, che sono due nostre ex giocatrici dell'anno scorso, quindi che conosciamo già abbastanza bene e che hanno comunque evoluto un po' il loro gioco e quindi sono migliorate. Rispetto alle partite amichevoli che abbiamo fatto con Cutrofiano all'inizio dell'anno, qualcosina è cambiato, sia da parte nostra, che è cambiato l'opposto, sia da parte loro, che hanno comunque anche loro cambiato l'opposto, hanno trovato questa giocatrice in bra che sta facendo molto 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 bene, che salta tanto, è difficile da difendere, è difficile da murare, però noi dobbiamo essere molto concentrati, stare lì e ogni occasione sfruttarla per poter portarci a casa il set e la partita. Quindi noi dobbiamo giocare al nostro massimo, sicuramente, e sperare anche comunque in una prestazione degli avversari che sia leggermente inferiore a quelle che abbiamo visto fino ad adesso. Di altro direi che questo è uno stimolo in più, parlando di stimoli, con Giorgia e Anna per fare bene. Loro sicuramente vorranno fare bene contro di noi e noi dovremo fare altrettanto, approcciare la gara con la stessa determinazione e la stessa voglia. Allora facciamo un passo indietro, riavvolgiamo il nastro, andiamo alla partita di domenica scorsa. Dopo tre vittorie consecutive è arrivata la sconfitta contro Talmassons in trasferta. Possiamo dire che probabilmente è stato fatto un passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni, soprattutto sotto il profilo del gioco. Il risultato sì, è un risultato secco, netto, però probabilmente quello che è stato notato dall'esterno è qualche passo indietro dal punto di vista tecnico-tattico, se così si può dire. No, non sono d'accordo, nel senso che a livello tecnico-tattico non ne possiamo neanche parlare, perché non ci sono elementi sufficienti per poter parlare di tecnica e tattica quando l'approccio mentale alla partita è stato completamente sbagliato. Non ci si arriva neanche a quel punto, questa è un po' l'analisi che ci siamo fatti. Le partite bisogna sudarsele, bisogna, come dice sempre anche il nostro presidente, uscire dal campo con le ginocchia sbucciate. Cosa che non è stata fatta a Talmasson, di questo chiaramente abbiamo pagato con una coccente sconfitta. Quindi direi che a livello tecnico-tattico, a livello di gioco, assolutamente, anche in allenamento, devo essere sincero, non abbiamo notato questa involuzione, assolutamente. attribuirei di più la colpa a un atteggiamento completamente errato da parte di tutte ad affrontare la partita contro il Talmasson.